Professa Bruno Michela, responsabile del centro, come siete organizzati? Insieme all'altro responsabile, il dottor Gordillo, insieme al collega dottor Gordillo, l'altro responsabile, abbiamo organizzato insieme al nostro direttore, Natale Praticomo, questo hub di Mugnano. È strutturato con un'area di pre-vaccinazione di attesa con quattro ambulatori per le analisi con il personale medico. In fondo avremo due box invece per la vaccinazione, quindi l'inoculazione del vaccino e posteriore alle sale di inoculazione avremo la sala di attesa post-vaccinazione dove a seconda del soggetto avrà un'attesa di un minimo di 15 minuti con un massimo dell'ora stabilita per quanto responsabile siamo noi. Quante vaccinazioni fate al giorno più o meno? Dovremmo avere una vaccinazione massima di 550 persone. Solo i cittadini di Mugnano? Mugnano, Melito e non sappiamo poi, perché non è di nostra competenza, la gestione della piattaforma e quindi delle convocazioni, ma bensì di un sistema informatico.